come ti senti un po abbondante qua mi pare vero? evitiamo di prendere le scelte va bene? è che in pugno i due missili di Magic Bike l'adolesco a K-1 le Magician e tutta la sua potenza sono giochi preziosi su vieni andiamo da Sabri a nuove sorprese per noi Sabri solo tu mi fai tante sorprese tu magica Sabri far falla luccicante regina della festa tu unica Sabri con te si va al cappeggio il scooter con gli amici vacanze sulla neve io e te a girare insieme tu che mi fai sognare Sabri piccola così sei davvero speciale come Gig allora Cristina quelli sono i tuoi bambini dalle la merenda ok Paolo Craft Lunchables 8 azione la merenda è divertente per tutti i ragazzi è Lunchables Crack formaggio e salame per Dolly e a Bronti non gli dai niente? si con un set di salame Lunchables è mille merende in una oppla ok ehi ma che fai rubi la merenda ai tuoi bambini? ma Paolo sono bambole sono finte stop Craft Lunchables la merenda preferita di Paolo avviso a tutte le fattuglie di carabinieri micromachine tutte le moto e le volanti devono isolare il centro della città è un'emergenza devono intervenire anche gli elicotteri ma ci vogliono altri rinforzi qui ci vuole Frecciablu ecco che a terra Frecciablu trasporta anche i cingolati e scarica tutti gli automezzi d'appoggio ora le forze sono al completo le gazzelle, le moto, tutti i veicoli dei carabinieri e da oggi anche l'eccezionale Frecciablu micromachines le originali da Hasbro eccolo qui il nuovo computer didattico della Oregon Scientific ehi ma cos'è? ciao ragazzi sono l'agente speciale Bravo la mia missione è farvi imparare divertendovi sono proprio qui sullo schermo per aiutarvi con tante attività educative e un sacco di avventure il mio pc è espandibile con vcd drive come quello dei grandi potete stampare i vostri documenti e ricevere e spedire email fantastico lo voglio no il computer Agent Bravo di Oregon Scientific è solo per ragazzi torna super con una super puntata ospiti i Poo, Luna Pop e Gary Barlow condotto da Vanessa Incontrada super domenica alle 13.45 su Italia 1 in collaborazione con Radio DJ grazie a tutti